Il 2015 è per noi, per il Tribunale Verito e Malato di Cittadinanza Attiva, un anno importante. Ricorrono i 35 anni dalla sua fondazione e per celebrare questa importante ricorrenza abbiamo messo a punto e lanciato una grande campagna nazionale dal titolo Sono malato anch'io, la mia salute è un bene di tutti. Una campagna che vedrà impegnato il movimento in tutti i territori di tutte le regioni, 23 tappe in 21 regioni ed è una campagna che vuole rimettere al centro alcuni grandi messaggi, alcuni grandi principi. Il primo è rimettere al centro i diritti del malato, in questi anni messi troppo spesso sullo sfondo da politiche economicistiche e ragioneristiche da parte del governo. L'altro secondo grande obiettivo è proteggere il servizio sanitario pubblico e rilanciarlo, ammodernandolo, quindi rendendolo più efficiente ed efficace. Poi però c'è anche il mettersi in discussione come cittadini, quindi lanciare anche un messaggio di responsabilizzazione del cittadino nel prendersi cura della propria salute, perché prendersi cura della propria salute vuol dire mettere al sicuro se stessi, aumentare la salute della collettività, ma anche prendersi cura del servizio sanitario nazionale, perché è la più importante strategia per la sua sostenibilità. Tra le strategie per la protezione e rilancio del servizio sanitario pubblico c'è sicuramente il tema che oggi affrontiamo qui, in questa edizione di Spreka.co, che è il tema dell'aderenza alle terapie. Soltanto un dato, si stima che i morti correlati alla mancata aderenza alle terapie sono circa 200.000 persone in Europa e che il danno economico si stima intorno agli 80 miliardi di Euro all'anno in Europa. Quindi affrontare il tema dell'aderenza alle terapie che oggi affronteremo vuol dire mettere in campo una strategia per il rilancio del servizio sanitario nazionale. Grazie.